Benvenuti a tutti! Lo so, nell'ultimo periodo sono stato particolarmente assente, però ho cercato di, da un lato, riposarmi un po' e dall'altro cercare di raccogliere un pochino le idee. A settembre torneranno gli aggiornamenti per un po' tutte le serie presenti sul canale. Nei prossimi giorni cercherò infatti di sistemare i video lasciati in sospeso e prepararli per l'uscita successiva. Oggi invece avevo voglia di presentarvi, nella maniera più veloce possibile, l'unboxing delle carte di Topolino 2023 realizzate da Corrado Mastantuano. Sono riuscito a fare questo unboxing contemporaneo di entrambi i mazzi perché in realtà il mazzo precedente, il primo, è arrivato piuttosto tardi in edicola e quindi io nel frattempo mi sono comprato il Topolino e quindi in quel caso specifico ho due numeri di Topolino. Vabbè, sono cose che capitano. Adesso però andiamo a vedere l'unboxing vero e proprio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivati a questo punto non mi resta che invitarvi, iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notizie su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti.